Senza Lodi, Russotto, Rossetti, Blondè e Di Grazia e Le Catani affronta le 16.30 e Le Fondi con l'obiettivo di centrare il settimo successo in trasferte e continuare l'inseguimento alla capolista Lecce che riceve le Francavilla. Luca Relli dovrebbe riproporre la stessa formazione vista a Rende, Conaia, Tedeschi e Bogdan in difesa. Bucolo, Mazzarani è fornito in mediana e Curiale e Ripa in avanti. Quest'ultimo in particolare è chiamato a confermare i progressi mostrati a Rende in terra laziale. Ci sarà anche una rappresentanza dei tifosi rossazzurri che si sono organizzati nonostante il non facile viaggio in bus. Alle 20.30 ne programma il derby Siracusa-Trapani che all'andata si concluse con un successo di misura dei Granata. La squadra di Bianco sarà priva di Turati e Palermo infortunati, spazio dunque in mezzo ad uno tra Toscano e Giordano. In difesa dovrebbe rientrare Mucciante, ne coppia con Magnani. Scardina sarà il punto di riferimento in attacco. Il Trapani di Calori punta a riprendere il feeling con la vittoria interrotto dalla sconfitta con il Cosenza. Al Desimone non ci saranno Palumbo e Pajarulo, ci sarà invece Marras cui è stato annullato un turno di squalifica. In avanti la coppia Reginaldo evacuo. Ieri l'Akragas ha pareggiato 1-1 con il Matera. Per poco non è arrivata la vittoria contro la più blasonata squadra di Auteri che è riuscita a pareggiare il gol iniziale di Sepe. Solo nelle finale su rigore ha parso dubbio. Il punto consente di tenere nelle mirino la casertana che oggi affronta il Catanzaro.